Alla vigilia delle elezioni politiche in Gran Bretagna, alla luce degli ultimi drammatici avvenimenti, nei sondaggi l'esito appare molto incerto, dopo una clamorosa rimonta dei laboristi sui conservatori. I bookmaker, tuttavia, nonostante le recenti debacle come la vittoria della Brexit o l'elezione di Donald Trump, non si fanno condizionare e continuano a scommettere sulla premier Theresa May, la cui prevista vittoria le considerebbe di gestire una maggioranza abbastanza confortevole di seggi. I rilevamenti che danno a risalite i laboristi risentirebbero infatti della timidezza dell'elettorato conservatore, meno propenso a dichiarare il proprio voto. Eppure molti vedono il leader laborista Jeremy Corbyn, 68 anni, vegetariano e dichiaratamente antimonarchico, alla guida del prossimo governo di sua maestà. Discusso nel Labour, dove ha guidato l'ala sinistra antibleriana, avversato dai maggiorenti del partito ma idolatrato dalla base, Corbyn ha conquistato nello stupore generale la leadership del Labour nel 2015, conquistando il timone della loro malandata, Navicella Laborista, e ora lancia la sua sfida ai Tore. Lo stato nel quale i conservatori hanno lasciato il nostro sistema sanitario nazionale, il sistema scolastico, è tutto tranne che è forte e stabile, ha sottolineato il leader laborista. Negli ultimi sette anni hanno portato alla fama i servizi pubblici, preferendo sempre a regali fiscali a favore di qualcuno, a scapito dei servizi pubblici dedicati alla maggioranza dei cittadini. E così, il leader laborista, un'altra vittoria potrebbe ottenerla, anche questa sorpresa, impedendo alla premier conservatrice di ottenere una maggioranza sicura in Parlamento, se non addirittura di prendersi le chiavi di Downing Street. Daccanto solo a May, nelle ultime settimane, dopo tre attentati e una brusca retomarcia su programma elettorale e una polemica scottante sui tagli alla polizia, nei suoi sei anni da ministro degli interni, appare più fragile e insicura, costretta a difendersi, ricordando i voti contrari di Corbyn alle leggi contro il terrorismo. All'indomani del voto sulla Brexit e delle dimissioni di David Cameron, la May del luglio 2016 ha voluto interpretare il ruolo di leader calma e competente, in grado di gestire le turbulenze dell'uscita dall'Unione Europea. Brexit vuol dire Brexit, è stato il suo mantra, per chiarire che non intendeva tradire la volontà degli elettori. Seconda donna a entrare a Downing Street dopo Margaret Thatcher, confortata dai sondaggi, ha indetto le elezioni anticipate per rafforzare la sua esile maggioranza parlamentare, in vista del difficile negoziato sulla Brexit. Per ritrovarsi sulla strada, già difficile, il macigno del terrorismo internazionale. In queste elezioni si contrappongono un leader che ha come scopo ultimo nella sua vita quello di sbarazzarsi della forza di dissuasione nucleare e un'altra che si è impegnata a difenderlo, ha detto la May in campagna elettorale. Un leader che si è vantato di opporsi a ogni legge antiterrorismo e quella che ha avuto il compito di farle adottare.